Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Cultura della Camera, Luigi Gallo, per parlare del Salone del Libro di Torino. Come tutti sanno, la Casa Altaforte è stata esclusa da questa importante kermess culturale. Allora, Presidente, noi abbiamo visto le dichiarazioni dell'editore di questa casa editrice. Quali sono le sue valutazioni? Non è mai troppo bello vedere una casa editrice esclusa da un importante appuntamento come questo? Io credo che il tema non sia la casa editrice, ma il tema sia eventuali incitazioni all'odio, le incitazioni ad una cultura che possa diffondersi della violenza. Questo è un tema che sta diventando importante nel nostro Paese. Ne vediamo le ripercussioni tutti i giorni nei fatti di cronaca. È un tema che preoccupa la Commissione Cultura, preoccupa molti membri del Parlamento. Infatti non a caso stiamo ragionando in intervenire con un pacchetto di misure che dia un'argine, crea un'argine anche a questo, oltre alla necessità di affrontare problemi sociali di più ampio respiro. Lei ha luo dei episodi di violenza come quelli che abbiamo visto ieri a Roma? Assolutamente, quello è un esempio di violenza dove si è fatta violenza verso dei bambini, si è fatta violenza verso una donna, quindi i soggetti molto fragili e sotto attacco in questo momento nella società. Non è più accettabile un clima di questo tipo, una politica deve prendere atto, deve porre dei freni, degli argini e fare in modo che si promuova un altro tipo di cultura, si rafforzi il senso di comunità, il senso di aggregazione che possa isolare questi momenti di violenza e non cavalcarli. Se lei dovesse definire le parole dell'editore Altaforte sull'antifascismo, che cosa direbbe? Noi ricordiamo che negli anni 70 ci fu un altro intervento molto importante di Pierpaolo Pasolini sul Corriere della Sera, ci fu un dibattito molto ampio, però le reazioni furono molto diverse, anche forse un po' più complesse. Guardi, qui non stiamo parlando di una cosa teorica, Stiamo osservando nella società dei fenomeni sempre più gravi di incitazione alla violenza e di gruppi che si aggregano per colpire anche i soggetti più fragili. Ci sono episodi ogni settimana, anche quello della settimana scorsa, di una persona adulta colpita da una baby gang. E quindi questi episodi hanno un forte collegamento, una forte connotazione anche col mondo dell'informazione. E quindi è una riflessione che deve essere politica, deve essere del mondo dell'informazione, perché tutti dovremmo stare dalla stessa parte a mettere un argine a un clima di questo tipo. Cioè nessuno si vuole trovare sotto casa aggredito perché è una donna o un bambino, o perché è di un colore o di un altro, o vuole trovarsi perché è di una posizione politica o di un'altra posizione politica. Non credo che siano climi da incentivare, invece purtroppo ci sono dei fenomeni che si stanno sempre più diffondendo nel Paese, con radici comuni e non comuni. La Lega è una posizione diversa rispetto alla vostra su alcune di queste tematiche? Questo è da chiedere alla Lega. Credo che questa sia una battaglia comune dell'intero Paese. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il Presidente della Commissione Cultura della Camera, l'On. Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle.